Rosanna Moncada è la nuova segretaria generale CGL della Funzione Pubblica Provinciale. Questo l'esito del congresso svolto sia a Caltanissette, in presenza anche del segretario generale Funzione Pubblica CGL Sicilia, Gaetano Agliozzo. E Florindo Oliviero, della Funzione Pubblica CGL Nazionale, ha partecipato all'appuntamento nisseno anche il segretario generale Ignazio Giudice, la componente di segreteria Liedi Girolamo, che ha presieduto il congresso. Rosanna Moncada, eletta all'unanimità, prende il posto dell'uscente Giovanna Caruso, alla quale è stata affidata la guida del Dipartimento Politiche Sociosanitarie. L'auspicio di questa nuova segreteria sarà quello di continuare il solco tracciato dal piano del lavoro della CGL e della Carta dei Diritti, salvaguardare la democrazia, l'uguaglianza, l'inclusione, tutti i diritti per dare dignità al lavoro, come stabilisce la nostra Costituzione. L'auspicio naturalmente è quello di realizzare e di concretizzare tutte le vertenze ancora in atto per la Funzione Pubblica Provinciale di Caltanissetta e anche quella regionale e nazionale. Prima tra tutti la stabilizzazione dei precari degli enti locali, della restante parte della sanità, quella di ristrutturare e di dare un sistema di sanità che abbia cura della persona, che salvaguarda anche i presidi più piccoli, che sono un patrimonio indispensabile, che non ci possiamo permettere di perdere. E poi tante vertenze ancora aperte, come quelle del terzo settore, dell'igiene ambientale. Quindi un sacco di lavoro e di impegno, ma che ci proponiamo di realizzare in questi quattro anni che verranno. La linea comune per tutte le nostre strutture è quella che comunque noi abbiamo al primo posto, il valore fondamentale di rappresentare gli interessi e i bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi pubblici, siano essi lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche, ma anche sempre di più lavoratori che dipendono da datori di lavoro privato, che però al pari degli altri svolgono servizi di primaria importanza per le cittadine e i cittadini. Sono i lavoratori che lavorano nel campo dell'assistenza, della sanità, degli asili nido, i vigili del fuoco, il corpo di polizia penitenziaria. Insomma tutto il mondo pubblico che spesso e volentieri viene disconosciuto dall'opinione pubblica, che però nel momento di bisogno è di grande utilità per tutte e per tutti. Il valore fondamentale è quello di rappresentare questi lavoratori e queste lavoratrici per dare loro la dignità di lavoratori al pari di tutti quanti gli altri, che spesso vengono bistrattati, vengono additati come i fannulloni, come quelli che appunto sono frutto di assistenza e clientela, e che invece con il loro lavoro quotidiano a volte si sostituiscono anche a quello che i governi e le politiche non sempre riescono a fare. Cioè quella di far sentire le amministrazioni pubbliche, i servizi pubblichi qualcosa che appartiene alle cittadine e ai cittadini di questo paese. Questo valore per noi è fondamentale, anche con il congresso affermiamo questo valore e questa dignità per tutti quelli che lavorano nell'ambito pubblico, sia i nostri pubblici che privati. Qui a Caltanisetta in questi ultimi anni abbiamo un po' invertito una tendenza, a Caltanisetta eravamo un po' in una situazione di difficoltà, ma anche con le ultime elezioni per l'RS1 e il pubblico impiego, Caltanisetta si è affermata come un centro di grande importanza per l'insieme dell'organizzazione della funzione pubblica CGL a livello nazionale in Sicilia. Noi oggi con l'elezione di Rosanna abbiamo dato valore al lavoro che è stato fatto negli ultimi 4 anni e con Rosanna siamo convinti di poter andare avanti di più e meglio di quanto non abbiamo fatto già finora.